Grazie a tutti. Grazie a voi per l'invito. Cominciamo subito col fare il punto della situazione, Sindaco, per quella che è stata l'emergenza sanitaria, l'emergenza da coronavirus che ci ha sconvolto tutti quanti. Raccontiamo quello che è stato in particolar modo per il suo comune per venire ad una fotografia attuale dei giorni d'oggi. Certamente sì, un'emergenza che continua ad avere degli strascichi, se non di emergenza ma proprio di incertezza per tutte quelle che sono le attività, la normale routine di un comune. Allora, noi abbiamo avuto una situazione anche abbastanza fortunata rispetto ad altri comuni, anche vicini, in quanto non abbiamo mai avuto dei casi di contagio proprio nel territorio comunale. Di certo non sono venute meno tutte le necessità collegate all'epidemia, quindi la gestione dei bisogni dei nuclei familiari, la gestione della consegna delle mascherine, l'assistenza domiciliare per chi comunque era soggetto, sottoposto a isolamento fiduciario e tutta questa serie di incombenze che abbiamo gestito innanzitutto grazie alle associazioni di volontariato che ci hanno dato una grossa mano, la protezione civile in primis, l'Avab Segusino e altre associazioni che ci hanno dato una grande mano proprio in queste attività quotidiane. Adesso resta da pianificare tutta la seconda fase che è un po' anche l'argomento scottante di questi giorni, che è un po' la riapertura delle scuole e via dicendo. Scuole che tra l'altro noi sulle quali abbiamo un intervento di restauro in corso importante, quindi un intervento di sia miglioramento sismico che efficientamento energetico in contemporanea, intervento che già era al limite con i tre mesi di chiusura estiva del plesso, a causa Covid c'è stato qualche rallentamento nella consegna, nella fornitura dei materiali, stiamo ultimando, siamo a buon punto, è probabile che appunto, anzi quasi certo che avremo una o due settimane di ritardo, quindi chiederemo alle famiglie di avere un paio di settimane, diciamo uno sforzo, chiederemo loro uno sforzo di un paio di settimane, appunto le prime due settimane di scuola ci gestiremo diversamente con degli altri spazi per poi partire a pieno ritmo, diciamo pieno regime a fine settembre con il nuovo plesso fatto, concluso e quasi nuovo. Questo è un intervento che sicuramente è caduto in un periodo un po' sfortunato, ma è un intervento che non mi sarei sentita in alcun modo di procrastinare, viste comunque le condizioni, ecco insomma lo stabile è abbastanza datato e quindi sicurezza dei bimbi prima di tutto, quindi un intervento non procrastinabile. E quindi diciamo comunque la problematica per quanto riguarda il distanziamento sociale, il fatto di garantire degli spazi ampi, adeguati, proprio per limitare quella che può essere la diffusione del contagio, non vi diciamo riguarda in modo particolare lo spazio sufficiente? Fortunatamente sì, abbiamo già ovviamente fatto tutte le valutazioni del caso col dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Valdobbiadene, abbiamo già pianificato la distribuzione delle classi, utilizzando tutte le aule più grandi, più spaziose, e riusciremo a farci stare appunto tutti gli alunni come previsto dalle normative, dalle direttive ministeriali, quindi da questo lato siamo ancora una volta fortunati e nonostante avremo delle classi numerose, questo lo dico perché è anche una cosa che mi fa piacere, avremo anche quest'anno una prima di 25 bambini, anche la seconda dell'anno scorso ne aveva 25, quindi è un trend positivo per una piccola scuola di un comune di neanche 2.000 abitanti, visto che è un problema, è proprio anche quello a volte di raggiungere i mini due delle classi, il nostro plesso ancora una volta si dimostra molto attraente anche per bambini da fuori comune, è una scuola che ha una sua storia, ha una sua credibilità e insomma una fama tra virgolette attestata che per un'offerta formativa, per il fatto di avere un tempo pieno con mensa interna, con cucina proprio in loco, quindi tutta una serie di servizi molto graditi, molto apprezzati dalle famiglie. E come è proprio la questione delle mense in questo caso, come verrà gestita? Sappiamo che anche quella è una delle principali criticità, degli aspetti più difficili da affrontare per questo nuovo anno scolastico. Abbiamo voluto a tutti i costi mantenere il servizio mensa proprio perché è una caratteristica della nostra scuola, è uno dei punti di forza della nostra scuola, oltre che per noi la mensa, il momento mensa rientra nell'orario scolastico, cioè un momento anche quello formativo, educativo, quindi abbiamo trovato una soluzione con la dita che è in gestione del servizio di faremo più turni, quindi divideremo probabilmente in tre turni o due ma più probabilmente tre l'orario del pasto e riusciremo in questo modo a mantenere le distanze e ad avere anche questo momento in sicurezza. Ci sarà un aumento chiaramente del costo perché spalmando l'orario in più ore ci sarà per forza un aumento del costo che però contiamo di non ribaltare sulle famiglie, anche questa volta abbiamo già valutato che riusciremo come Comune ad assorbire noi questa differenza di costo per non andare a gravare ulteriormente sulle famiglie. Senta Sindaco, abbiamo parlato dell'emergenza dal punto di vista sanitario, abbiamo parlato dell'emergenza per quanto riguarda l'anno scolastico, la scuola, come verrà affrontato questo nuovo inizio, il capitolo che riguarda il commercio del territorio. Voi avete sostenuto anche i commercianti locali che sono stati colpiti anche loro nelle loro attività. In che modo? Sì, da sempre ho cercato di dimostrare il mio sostegno a queste realtà perché sono davvero quelle che più hanno vissuto nell'incertezza nel periodo di lockdown. Non avevano risposte, non avevano certezze sulle modalità di riapertura, sui tempi, sono state seriamente danneggiate e come dico sempre le nostre piccole comunità sopravvivono anche e soprattutto grazie a queste attività che di fatto rendono un servizio, non sono solo delle attività fine a se stesse ma rendono un servizio all'intera comunità. Quindi abbiamo promesso e poi di fatto siamo riusciti a realizzare questo bando, un bando di contributi proprio a sostegno. Quello che siamo riusciti a mettere sul piatto per qualcuno sarà un gesto, per qualcuno altro potrà fare effettivamente la differenza. Abbiamo fatto un bando in cui erano previste tre tipologie di contributo a seconda della chiusura totale, parziale, che va dai 500 ai 1500 euro massimo di contributo. Abbiamo chiuso la raccolta domande l'8 agosto, abbiamo ricevuto 14 richieste che stiamo valutando in questi giorni e presto chiuderemo l'iter. Quindi credo un bel gesto, una bella cosa per queste attività, attività che comunque sono contenta di poter dire che adesso mi sembra siano ripartite, non so se come prima, ma comunque è bene anche con l'estate un po' di mezzo che ho notato davvero una grande frequentazione del nostro borgo anche in questi mesi estivi, quindi spero che diciamo ci sia stato un po' di recupero sul fatturato perso durante i mesi di lockdown. E quindi una frequentazione possibile anche grazie ai turisti che vengono a trovarvi? Sì, devo dire di sì, ho notato davvero tante facce, tanti volti sconosciuti in paese nelle scorse settimane, quindi bene, credo sia un buon segno, non solo nella frazione montana, nei due borghi diciamo di Mezzacosta e Montano di Stramare e Migliese, ma anche proprio in piazza, quindi questo è un bel segno, un segno che il paese ha apprezzato in toto, nel suo insieme, un segno che un po' tutti hanno potuto lavorare con queste persone, con questi turisti e sicuramente la montagna è fatta da regina, come un po' dappertutto, abbiamo notato un grandissimo flusso soprattutto a Migliese di camminatori, di frequentatori in genere, quindi bene, c'è stato un ritorno alla montagna, montagna che permette forse di mantenere di più le distanze, quindi probabilmente il turista si sente un po' più sicuro, un po' più tranquillo e sereno nel trascorrere il suo tempo libero, il proprio tempo libero appunto così. Tra le tante proposte, Sindaco, una curiosa che mi aveva così colpito è la proposta turistica, proprio senza rischio di assembramenti, lungo il sentiero delle Acque di Segusino. Sì, il sentiero delle Acque che abbiamo inaugurato l'estate scorsa, si è confermato una delle mette più radite proprio dai turisti, è un sentiero molto suggestivo che attraverso una serie di punticelli sopra il torrente permette appunto di raggiungere dal centro del paese, raggiungere il borgo di Stramare in un ambiente suggestivo, anche un po' refrigerato, quindi sicuramente rilassante. Una proposta accattivante. Cambiamo argomento, Sindaco, entriamo adesso nel capitolo che riguarda i lavori pubblici. So che avete importanti cantieri in partenza. Sì, a parte appunto le scuole elementari che sono in fase conclusiva, abbiamo un paio di smottamenti, di dissesti idrogeologici ancora dell'anno scorso, di due anni fa, che adesso con una serie di accortezze siamo riusciti appunto a mettere appunto degli interventi che combinassero la sicurezza e lo ricordo sempre anche l'aspetto paesaggistico, perché il nostro comune ormai da qualche anno è sotto tutela della sovrintendenza delle belle arti, quindi c'è sempre anche questo passaggio in più da fare. A volte ce lo dimentichiamo, ma è anche questo che a volte questa accortezza in più, che è un bene che ci sia, perché comunque dà sicurezza nella tutela del paesaggio, però richiede magari dei tempi un po' più lunghi. Quindi abbiamo questi due smottamenti in imminente partenza, poi completeremo il rifacimento dell'ecocentro con tutta la nuova recensione e videosorveglianza, poi abbiamo l'imminente, anche qui, il restauro e il recupero del cimitero comunale, con anche qui tutta una serie di accorgimenti anche estetici, quindi un altro cantiere da circa 100.000 euro. E avremo gli spogliatoi. Stiamo restaurando gli spogliatoi della palestra comunale, che questi molto datati, palestra che si rivela molto interessante, molto richiesta da varie attività sportive. Abbiamo avuto anche qui un aumento dell'offerta di attività sportive, quindi non può che essere una cosa positiva. Adesso adegueremo anche questi spogliatoi, gli spogliatoi della parte più vecchia, non dell'ultimo ampliamento realizzato qualche anno fa, che così potranno essere adeguati al resto della struttura. Restando in tema forse di palestra comunale, di impianti sportivi, abbiamo un bellissimo progetto anche qui, molto ambizioso, ma confido che a piccoli passi riusciremo a portarlo avanti, che è proprio la riqualifica dell'intera area. Forse si può vedere... Sì, questo che è appunto l'opuscolo vostro, che voi presentate, dove ci sono tutte le notizie. A me aveva incuriosito appunto questo sindaco dell'Università di Padova e di Assi Industria per Segusino, che hanno presentato proprio un sostegno per una nuova progettualità. Abbiamo poco tempo, però dobbiamo riuscire a presentarla brevemente? Sì, allora diciamo che in questi anni, sicuramente dopo Vaia 2018, quando abbiamo preso atto della grossa complessità del nostro territorio dal punto di vista dell'aspetto idrogeologico, ma anche del fiume Piave. Quindi diciamo siamo in questa morsa, abbiamo l'acqua del versante e abbiamo il fiume Piave che magari crea danni meno spesso, ma quando li crea, li crea importanti. Quindi ho deciso di affrontare seriamente la questione a 360 gradi, quindi valutando tutti gli aspetti per trovare delle soluzioni futuribili. Quindi stiamo lavorando con l'autorità di Bacino della Regione Veneto, Genio Civile, che già sta realizzando l'opera lungo la strada provinciale 28, e anche con l'Università di Padova, che grazie a un finanziamento di Assi Industria Veneto Centro, che ringrazio nuovamente, sta a sua volta studiando la situazione e mettendo insieme tutte queste risorse riusciremo ad affrontare il problema da più lati, da più angolazioni e a proporre delle soluzioni, si spera, definitive per tutte le problematiche. Ecco, quindi vediamo che le progettualità non mancano, vediamo che ci sono tante idee e tante attività per migliorare ulteriormente quella che è l'offerta del territorio, quello che è la vita poi della collettività. Io la ringrazio, Sindaco, per essere stata con noi, purtroppo il nostro tempo è concluso, però avremo modo di ritrovarci ancora per approfondire questi temi. Assolutamente, arrivederci. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci. Grazie a tutti.